ciao ragazzi benvenuti in questo video allora e da un sacco che non facevo video beh gli ultimi video che ho fatto sono brugo gianluca per recolo che non è una copia di video di scottacolo solamente preso brugo gianluca recolo e li ho uniti quindi non è nulla di copia comunque allo stavo dicendo oggi fa lo sponsor sh che solo ora mi sono accolto come come sfondo è un alligatore giusto non lo so allora lui è uno youtuber che fa molte cose degli adwords i doppia poi fa anche qualche altra cosa mentre in italiano tipo tipo non lo so baldi basic musical che certamente mi ha detto non volevo vedere non volevo vederlo in inglese quindi l'ho doppiato in italiano vabbè in effetti mi sembra qua vabbè agli inizi proprio perché non c'erano ancora vabbè poi ragazzi in questo video non ho assolutamente collaborato con sh guardate in questo video io e luciano non abbiamo assolutamente collaborato con sh vai fare bing e larry che sarebbero il regista e il suo assistente quella ragazzi questa qua ha funzionato questa qua non è sicuramente la mia voce ehi 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 che ci è succedere e sicuramente questa non è la mia voce Godzilla King Kong ovviamente non è quella tranquilli cioè non ho collaborato vabbè a parte gli scherzi sì ho collaborato comunque è riuscito un bellissimo video soprattutto perché c'è la mia voce Poi ho fatto anche il dottor Laisima Le parole roma è trapassato Hanno un po' il segno No bellissimo i sottotitoli guardate Le parole roma è trapassato Hanno un po' il segno Prende i sottotitoli dicono Le parallele a me è trapassato Hanno un po' il segno Era un po' diverso Vabbè ragazzi vi consiglio di scrivervi A SH perché è un mio amico E anche di Luciano Allora Se volete una sponsorizzazione Potete scriverlo Perché magari Inizierò a fare qualche sponsorizzazione Da oggi Le facevo ma non le facevo così tanto Magari le inizierò a fare Vabbè Spero che vi sia piaciuto Iscrivetevi a SH Il canale in descrizione E nei commenti Vi lascerò anche il link Del mio server di discord Per chi vuole entrare E vabbè Ci vediamo al prossimo video Ciao ragazzi Aspettate Aspettate un bacio Lo scriscio Per fare l'icona Ok Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi